Quaranta gotto, i dettati su un matrimonio, figli femmine, votti di vino, sbarattali quando prima. L'antica e radicata tradizione della tombola natalizia si rinnova grazie all'idea di Massimo Campolongo e di Menafilpo dell'Associazione Culturale e Teatrale I Pirropaine, esaltando così il gusto di stare insieme e di mettersi in gioco. Ho avuto l'idea di ideare la tombola castroveddara, anziché la smorfia napoletana, con i nostri detti antichi castroilaresi. La simpatica rivisitazione della tombola del gioco da tavola nata nella città di Napoli nel XVIII secolo come alternativa casalinga al gioco dell'otto e spesso accompagnato da un sistema di associazione tra numeri e significati di solito umoristici, la smorfia. In questa rivisitazione c'è la possibilità di riscoprire vecchi detti castrovillaresi. Credo che sia un modo per far passare le serate con ulteriore allegria a tutti i castrovillaresi perché è una tombola con le cosiddette dettate in Anna e dettata. Quindi c'è la possibilità, chi magari le ha dimenticate, di riscoprire vecchi detti castrovillaresi oppure ai giovani, rivolta quindi anche ai giovani, per fare in modo che questi ragazzi possano cominciare ad apprendere vecchi detti appunto delle nostre tradizioni. Quattardici, ombreaco! Il gioco lo trovate in diversi edicoli di Castrovillari, mentre per il 23 è prevista presso il protoconvento una serata giocando appunto a tombola. Sarà tra le altre cose una serata con una tombola spettacolo, l'abbiamo così definita, perché avremo la possibilità di poter dare anima a questi numeri. Feglie femmine, voti di vino, sbarattali quando primo!